Voi sempre più impegnati sul territorio per queste nuove povertà, per una situazione che si fa sempre più difficile, anche nella nostra città. C'è l'esigenza intanto di realmente parlare di quelli che sono i costi umani e con che dire la crisi. La percezione che questa crisi c'è dura e dura da molti anni. Poi però contestualmente non si operano interventi realmente incisivi e si ha la tendenza a percepire le risorse che vengono spese nel mondo del sociale come costi e non invece percepirli come forme di investimento per riattivare anche microeconomie. Ogni volta che io spendo dei soldi per lavorare verso il reinserimento e l'inclusione sociale di qualcuno lavoro per aumentare la sicurezza e per far tornare quel cittadino da fruitore passivo di servizi a un futuro contribuente. Questo è il primo incontro che riteniamo importante perché c'è una proiezione abbinata del documentario PIGS che sta girando da 5 settimane dopo l'uscita il 27 aprile in tutta Italia e che parla proprio di una cooperativa sociale, il Pungiglione di Monte Rotondo che a causa della crisi subirà dei tagli che sono importanti, manderà a casa 100 lavoratori e lascerà senza assistenza 150 disabili. La stessa cosa succede qui sul territorio dove ci sono stati importanti tagli al sociale proprio a causa dell'austerità imposta da politiche europee che ovviamente l'Italia non può contrastare perché ci vengono imposte e quindi sono una perdita della nostra sovranità. Noi pensiamo che bisogna iniziare a ragionare su quello che è veramente la causa della crisi che riteniamo sia proprio l'applicazione di queste politiche di austerità. Il film ne parla molto concretamente e poi ci sarà il regista Federico Greco che ci parlerà proprio di tutta la realizzazione del documentario. Questo documentario poi sarà l'inizio, la proiezione e il dibattito di una serie di incontri sull'economia e sulla politica e soprattutto su come l'economia ha soggiogato la politica quando invece dovrebbe essere il contrario.